Imparare una lingua straniera non è sicuramente facile e richiede tempo e impegno. Servono naturalmente costanza e pazienza, ma anche curiosità e soprattutto una motivazione che sia al contempo forte e sentita e sincera. Per imparare è prima di tutto importante volerlo, memorizzare parole chiave ed imparare a pronunciare e scrivere correttamente determinati suoni e fra le principali sfide dell'imparare una nuova lingua. È possibile che alcuni suoni utilizzati in inglese siano proprio assenti nella nostra lingua madre, il che rende difficoltoso memorizzare e pronunciare i vocaboli. Fortunatamente, secondo uno studio del Northeastern University College of Science, gli umani possiedono una innata consapevolezza di quali suoni siano realistici e quali no. Insomma, sebbene le lingue differiscono fra loro, è bene ricordarsi che presentano anche molte affinità sonore. L'assoluta priorità è quindi quella di acquisire questi suoni e la corretta pronuncia inglese, oltre ad un dizionario mentale costituito dalle 500 parole di uso più frequente. Non preoccupiamoci subito di approfondire le regole grammaticali, in quanto solo il 20% del significato di una frase viene comunicato attraverso la grammatica, mentre il restante 80 deriva dalla padronanza del lessico. Quindi memorizziamolo questo lessico! Esistono delle tecniche che possono aiutare a ricordare i vocaboli in inglese in modo rapido ed intuitivo, e sarà proprio questo l'argomento del prossimo video. Se questo video ti è piaciuto e hai trovato utili suggerimenti? Iscriviti al canale e seguimi sui social!